L'ex presidente della FIFA Joseph Blatter e l'ex presidente della UEFA Michel Platini sono stati assolti dalla Corte Penale Federale Svizzera in un processo per frode alla FIFA. Le accuse in relazione al pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri, circa 2 milioni di euro, che Platini aveva ricevuto dalla FIFA nel 2011 per il lavoro svolto dalla FIFA come consulente tra il 1998 e il 2002. Sono innocente, ha detto lo svizzero Blatter, 86 anni, che ha preseduto l'organismo di governo del calcio mondiale dal 1998 al 2015.